ragazzi con le camere vogliamo indietreggiare un altro poverso favore esatto un po' dietro ragazzi i due capogruppo ragazzi ok ok parla è stata una vittoria dello Stato l'arresto di Matteo Messina Denaro è la dimostrazione che lo Stato non cede mai 30 anni di latitanza ma anche 30 anni di persone che si sono sacrificate per cercarlo inquirenti forze dell'ordine carabinieri insomma una vittoria per l'Italia che dimostra che lo Stato c'è e c'è sempre e che il crimine alla fine perde ricordiamo molto spesso coloro che sono caduti nella lotta alla mafia magistrati le loro scorte carabinieri e poliziotti oggi ricordiamo e manifestiamo la gratitudine per una vittoria importante che è un segnale di legalità per tutta la nazione